Il mix contadino natale nasce dall'idea di portare nelle vostre case un tagliere di prodotti tipici del territorio bergamasco. Noi siamo agricoltori di mais antichi, quindi la possibilità di scegliere tra tanti dei nostri prodotti a base di cereali antichi, abbinati con un salamino, una formagella che sono proprio prodotti tipici della bergamasca. La formagella fatta ancora con un latte intero, quindi non scremato e vacche che pascalano solo erba. Oppure ancora il nostro salame, salame nostrano che produciamo in collaborazione con Fustinoni, Val Brembana, quindi tre generazioni di allevatori e trasformatori, quindi macellai, sanno fare il loro lavoro. Certo, e se vuoi spedire il pacco a tutti i tuoi amici ti chiediamo la cortesia di fare un ordine per ogni indirizzo e quello che caratterizza poi questo pacco sarà ovviamente la tua dedica personalizzata, quindi se lo desideri c'è il box apposto delle note in cui lasciare la tua dedica e procederemo con la spedizione ovviamente entro Natale.